Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, usuale, classico, consueto, disordine della mia libreria. Allora, cari signori, cari signori, cari signori, torniamo a parlare di un libro che negli ultimi mesi da che me l'ha regalato l'amico Tony De Mario, ripeto con una generosità straordinaria del quale non finirò mai di ringraziarlo, dicevo, l'amico Tony De Mario mi ha regalato questi due volumi, la meccanizzazione dell'esercito fino al 1943 di Lucio Ceva e Andrea Curami, che è un'autentica miniera di informazioni, una ricerca assolutamente e incredibilmente accurata e precisa nella sua rigorosa esposizione dei fatti. L'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'esercito italiano, con questo libro, ha fatto un lavoro eccezionale mostrando un pezzo di storia delle nostre forze armate, estremamente importante. Allora, se ben vi ricorderete, tempo fa avevo parlato della storia, avevo parlato del tentativo di far produrre in Italia il Panzer IV e si andò avanti a tentativi, a trattative più o meno fino al 1942 quando sul suo diario Cavallero, un uomo che molto probabilmente riusciva nell'impresa di essere quantomeno più ladro di Badoglio, ma ne parliamo in seguito così, dicevo, c'erano stati questi tentativi di produrre i Panzer IV in Italia. L'idea abortì perché si sperava di poter produrre il cosiddetto carro P-40, ve lo ricordate il mitologico carro armato medio che avrebbe dovuto essere l'equivalente italiano del T-34 dello Sherman? Ok. Allora, cosa succede? Succede che nel 1942 le prospettive di riprodurre il Panzer IV in Italia erano ormai tramontate, come risulta da questo passo del diario di Cavallero sul quale conviene soffermarsi. Prestate attenzione perché è un passo estremamente interessante. 17 marzo 1942 ricevo l'eccellenza Ago, eccellenza Squero e generale Girola, argomento trattative con la parte germanica per il carro T-4. Modalità per sospenderlo. Ore 9.40 ripresa del colloquio comunico che la deficienza di molibdeno ci mette nell'impossibilità di riprodurre il T-4, il Panzer IV insomma, il che costituisce una ragione per non concludere il contratto. Inoltre chiedo quali sono i tempi di approntamento. Il generale Girola risponde che il T-4 non potrebbe essere allestito prima della metà del 43, mentre il P-40 potrebbe essere allestito a fine anno. Invece sappiamo bene come andò, perché il P-40 rimase per tutta la sua esistenza una specie di ectoplasma, una specie di fantasma. Inoltre occorre cambiare per fare il T-4 il modulo degli ingranaggi. Le macchine sono di produzione in Svizzera e sono bloccate dai tedeschi stessi. Inoltre vi è deficienza di acciai rapidi. Prezzo del prevetto T-4, 30 milioni di marchi, tentativo per diminuirlo. Il generale Girola comunica che i tedeschi non aderiscono perché la cifra rappresenta un controvalore della somma da loro spesa. Conclusione. Difficoltà a produzione T-4 consistono principalmente nell'argomento tecnico. Deficienza di materie prime, deficienza di attrezzature, complicazioni derivanti dal fatto che la nostra industria non fa saldature delle corazze e bensì chiodatura. Incarico il generale Girola di prendere contatto con il generale von Rintelen e di prospettargli le difficoltà di qui sopra. Poiché il T-4 è stato direttamente offerto dal Führer, occorre declinare con garbo la stipula del contratto rappresentando le nostre gravi deficienze di materie prime. Passo del diario del generale Cavallero. Ci dicono comunque sia ceve curami che, ripetono, aggiungono con molta diplomazia. Ci spiace dirlo ma è nostra impressione che i motivi tecnici e persino finanziari addotti da Cavallero, altro non siano che scuse affastellate per respingere ogni possibilità di produrre un qualsiasi carro che non fosse integralmente di progettazione e riproduzione a saldo Fiat A. Mamma Fiat perde lo pelo ma lo vizio non lo perde mai! E se state guardando le sciarpe nero azzurre qua dietro... Vabbè, lasciamo stare, scusate, torniamo seri. Allora, verifichiamo punto per punto gli asserti di Cavallero e vediamo un po' che cosa ci dicono ceve curami. La mancanza di molibdeno e in genere di correttivi per acciai si sarebbe verificata se la guerra si fosse protratta sino all'esaurimento di ogni scorta di qualsiasi tipo ma un tale momento era ancora molto lontano nella primavera 1942. Non sarà raggiunto neppure dell'estate del 1943 al tempo dell'armistizio. come attesteranno le concordi e non sospette affermazioni di Favagrossa del generale tedesco Jodl e dell'ingegner Rocca e del resto Cavallero con la sua indubbia esperienza industriale assistita da viva intelligenza perché diciamoci la verità Cavallero non era stupido Cavallero era una persona intelligente, furba e capace a farsi gli affari suoi però ma continuiamo un attimo il discorso allora dicevo Cavallero con la sua indubbia esperienza industriale assistita da viva intelligenza era contrarissimo ad assurde tesaurizzazioni di scorta perché oggettivamente serviva poco tenere da parte scorte se poi non potevi fabbricare niente comunque sia tanto più che egli aveva già individuato dove attingere altre scorte proprio dove si fossero esaurite quelle sui piazzali e nei magazzini delle industrie lo scriverà riferendosi alle munizioni in un promemoria di qualche mese più tardi 6 agosto 1942 sentite bene provvedimenti che si propongono riportare le quote delle materie prime a quelle del 41 impiegando tutte le scorte di materie prime con la massima urgenza perché dalle domande delle ditte all'effettiva consegna delle materie prime passa un periodo di tempo variabile dagli 8 ai 18 mesi al quale va aggiunto il ciclo di lavorazione le riserve possono essere impiegate senza esitazioni anche perché se la guerra durasse ancora a lungo avremo sempre la possibilità di mandare a rottamare armi e munizioni della scorsa guerra che sono ricche di correttivi pregiate allora queste di Cavallero sono parole chiare competenti e realistiche ma perché se ne dimenticava in argomento carri armati? facciamoci qualche domanda mamma Fiat è la risposta ma facciamo anche continuiamo un attimo con Cerve Cura non spenderemo spazio sul costo del brevetto per elevato che fosse sarebbe scomparso nella voragine delle spese e degli sperperi di guerra e neppure perderemo tempo con la questione delle macchine bloccate dai tedeschi se Hitler giungeva a proporre la licenza di un suo carro difficilmente avrebbe poi bloccati gli strumenti per costruirlo tanto più se come inizialmente previsto una parte della produzione fosse andata a beneficio della Wehrmacht scuse scuse diceva quello parliamo della saldatura allora è vero che a questo riguardo l'ansaldo aveva fatto un passo indietro nel 1934 ma intanto la documentazione dei primi d'ottobre 1941 già esaminata a proposito del litigio ansaldo Otto accenna al previsto invio in Germania di specialisti delle varie industrie per aggiornarsi sulla saldatura quindi noi avevamo già cominciato a studiare come si saldava ma problema che a febbraio 1942 quindi sarebbe stato risolto se ci si fosse mossi in tempo o se ci si fosse voluto muovere in tempo vabbè 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 e poi vedremo che la capacità di saldare al momento opportuno verrà improvvisamente ritrovata e senza insegnamenti tedeschi allorché si tratterà di costruire l'autoblindo lancia ansaldo tipo lince eh che vi posso dire quanto infine ai tempi quelli del P40 ovvero sia fine 1942 erano più brevi di quelli del Panzer IV metà 1943 ma questo era solo nelle chiacchiere dell'ingegner Rocca di fatto i primi P40 superati e con motori del tutto insufficienti perché ricordiamoci nei P40 prodotti ci venne messo un motore da camion non il motore diesel da 400 cavalli che per cui erano stati progettati chiaro? ehm saranno impiegati dopo l'8 settembre 1943 unicamente dai tedeschi e dalla Repubblica Sociale Italiana d'altronde la circolare numero 0077 200 barra 3 dello Stato Maggiore del Regio Esercito in data 8 luglio 43 aveva disposto la costituzione del primo battaglione Carri P presso il deposito del primo reggimento fanteria carrista con sede a Vercelli solo sotto la data del primo agosto riservandosi inoltre di definire a parte la questione del materiale con questo sia ben chiaro non si vuol dire che a febbraio 42 o anche prima una decisione a favore del carro tedesco sarebbe stata senz'altro quella giusta è anzi probabile di no soprattutto per la ragione che se si fosse optato per il carro tedesco i tempi di riconversione e i ritmi produttivi non si sarebbero avvicinati nemmeno da lontano a quelli da fare invidia alla Germania che Rocca non esitava a sbandierare per dar forza alle spacconate contro la possibile concorrenza della Oto resta però che almeno per i motori la costruzione su licenza dei motori Maybach era stata forse un po' troppo affrettatamente esclusa ma sul problema dei motori torneremo fra poco per ora bisogna prendere atto che la commessa 22 aprile 42 per 500 carri armati P40 segna la fine di ogni interesse per il carro Panzer IV offerto da Hitler e per il quale ogni problema si riduceva come scrisse Cavallero a declinare con garbo la nostra stipula del contratto rappresentando le nostre gravi deficienze di materie prime ma è anche giusto ricordare che nonostante il rifiuto fosse ormai previsto Ansaldo e Fiat non si sa mai avevano comunque programmato di assicurarsi la costruzione del carro tedesco come testimonia una bozza di contratto che abbiamo ritrovato dunque 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 cari signori cioè qui insomma Cavallero parla Cavallero parla uno dei principali artefici se vogliamo della catastrofe logistica amministrativa e organizzativa del nostro regio esercito durante la seconda guerra mondiale una insomma Cavallero la dimostrazione cioè da questa testimonianza tratta dal diario di Cavallero cioè si evince e Ceve e Kurami ce lo fanno notare con estrema diplomazia si evince che il duopolio Ansaldo Fiat che aveva praticamente in esclusiva la costruzione dei nostri carri armati innanzitutto non voleva saperne di mollare la presa sul succulento osso della fabbricazione dei mezzi corazzati motori Fiat Scafi Ansaldo un duopolio che con un accordo di cartello quantomeno criminale fornì ai nostri soldati gli scadenti mezzi che ben conosciamo che vi devo dire e soprattutto duopolio che non fu mai in grado di mettere in produzione il famigerato fantomatico e fantasmatico carro P40 perché ripeto il carro P40 doveva avere un 8 cilindri diesel da 400 450 cavalli quel motore non fu mai messo a punto perché la Fiat oggettivamente non era in grado diciamoci la verità ci misero un motore da camion vi lascio immaginare signori vi lascio immaginare l'amico Enzo Maio mi raccontava di come un reparto non appena consegnati ad un reparto carrista della Repubblica Sociale Italiana i carristi della Repubblica Sociale Italiana i carristi della RSI videro il carro P40 tolsero l'olio dal motore accesero il propulsore e lo fecero girare vuoto per farlo grippare perché secondo loro il P40 era una trappola mortale in pratica diciamoci diciamo una cosa le parole del diario di Cavallero sono a dir poco illuminanti su quelli che erano i rapporti tra l'industria privata ovvero sia mamma Fiat e le chiamiamole partecipazioni pubbliche le industrie di Stato perché l'Arsaldo era proprietà statale un accordo di cartello quantomeno criminale o criminoso perché oggettivamente quando l'industria privata leggi Fiat e l'industria pubblica si accordano per come dire impedire a qualunque altra entità produttiva italiana perché ricordiamoci una cosa Motoguzzi Lancia Oto Terni Breda Alfa Romeo cercarono a varie riprese di entrare nel cosiddetto mercato tra virgolette dei carri armati ma furono tutti malamente respinti con perdite dal duopolio Fiat Ansaldo dagli agganci politici ed economici di questo duopolio soprattutto quelli provenienti da Torino diciamoci la verità insomma direi che è abbastanza chiara la cosa insomma come dire una farsa se vogliamo rinunciare alla produzione su licenza del Panzer IV con la scusa che non c'erano materie prime quando poi si scopre che le materie prime in realtà erano disponibili cioè la scusa che molti adducono non era possibile fabbricare perché non avevamo scorte questo è vero ma tenete presente una cosa le scorte anche se poche c'erano cavallero ripeto corrotto sì ma intelligente ok sapeva bene che era inutile fare tesoro delle scorte teniamo da parte il molibdeno teniamo da parte il vanaglio teniamo da parte le materie prime preziose e cosa e cosa le tenete da parte a fare ecco questo cavallero lo sapeva benissimo ma proprio essendolo viabile spregiudicato e poi diciamoci anche la verità corrotto estremamente corrotto cavallero era uno degli uomini più corrotti dell'italia fascista indubbiamente più di lui insomma più di lui se vogliamo soltanto badoglio e farinacci detta com'è e lo stesso diceva questo è un altro discorso ripeto questo passo del libro di Ceva e Kurami ci spiega come per l'ennesima volta il tentativo di fornire alle nostre truppe qualche cosa di meglio dei mediocri e nel 1942 già superati carri M abortì malamente perché perché il duopolio l'accordo di cartello tra Ansaldo e Fiat vietava non solo l'ingresso nel mercato delle commesse per mezzi corazzati italiani l'ingresso di altre entità produttive ripeto dalla motoguzzi all'Alfa Romeo dalla Otto di Terni alla Lancia cioè il duopolio Ansaldo Fiat impedì ad altre entità produttive di entrare nel lucroso mercato delle forniture militari di carri armali questo libro ce ne parla ampiamente ed estesamente e ci spiega il modo in cui la Fiat come suo solito si comportò né più né meno come ben sappiamo ovvero sia con spregiudicatezza rapacità e totale e assoluta non curanza delle necessità contingenti del paese e della guerra tutto qui quindi cari signori ripeto da questo libro la meccanizzazione dell'esercito fino al 1943 di Ceva e Kurami la fine delle prospettive di produzione su licenza in Italia del Panzer IV ovvero sia come volersi fare del male per continuare a fare dal bene ai soliti noti e come sempre in questi casi qualsiasi riferimento qualsiasi riferimento ad entità calcistiche con maglia da galeotti è fieramente e potentemente voluto va bene scusatemi io lo so che su certi argomenti ci sarebbe poca ironia da fare però siamo sinceri sono passati 75 no 77 anni circa da quanto riportato da Ceva e Kurami ma siamo sinceri pare che sia cambiato decisamente molto poco tutto qua quindi cari signori come sempre vi ricordo che ci sono i commenti per la valutazione per la come dire insomma per aggiungere le vostre considerazioni da fare a questo video quindi commentate dite le vostre opinioni aspetto le vostre opinioni e come sempre arrivederci al mio prossimo video ciao 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 ciao